Silvano era molto gentile e paziente. Ogni giorno, nel ristorante dove lavorava come cuoco, aveva sempre una parola cortese per tutti, e così pure al mercato, dove si recava ad acquistare la verdura e la frutta che gli occorrevano per preparare i suoi piatti prelibati, le sue torte squisite. Non si arrabbiava mai, anche quando le cose andavano storte, i garzoni lasciavano bruciare l'arrosto o si dimenticavano di alimentare il fuoco e il soufflé che aveva messo a cuocere in forno si sgonfiava come una gomma bucata. Si limitava a sospirare alzando gli occhi al cielo e preparava di nuovo i suoi manicaretti. Tutte le mattine una signora che abitava in paese aveva preso l'abitudine di passare davanti al ristorante per curiosare in cucina, sperando che il buon Silvano le rivelasse qualcuna delle sue ricette prelibate, che facevano esclamare ai suoi avventori. Il Silvano è il più gran cuoco del mondo, neanche il re di Francia un cuoco bravo come lui. La signora gli rivolgeva parole gentili e melliflue e così facendo pensava se lo riempio di elogi otterrò la sua confidenza e riuscirò a farmi rivelare qualche segreto. Non si accorgeva che i suoi complimenti interessati lo infastidivano ed ogni giorno moltiplicava i suoi sforzi. Silvano era seccato anche perché la signora gli faceva perdere tempo, ma era troppo gentile per rispondere sgarbatamente o peggio per cacciarla via. Una mattina accadde che Silvano aveva messo a cuocere un pentolone di brodo e lo rimestava meditabondo. Con questo potrò fare una buona minestra per quelli che sono a dieta leggera e in più lo userò per il mio risotto speciale, di cui tutti dicono che è delizioso, pensava. Il brodo bolliva e bolliva e di tanto in tanto affioravano gli ingredienti, tra cui alcune enormi ossa di bue. Mentre era tutto intento al suo lavoro, ecco che la signora noiosa si affacciò alla porta della cucina, che era rimasta socchiusa. Faceva così caldo in quell'ambiente che un po' d'aria era proprio necessaria. Buongiorno Silvano, ma che bell'aspetto ha oggi, è tutto bianco e rosso come un bambino. Ecco di nuovo questa seccatrice, pensò Silvano, ma era gentile e la salutò cortesemente. La signora si avvicinò al fornello e sbirciò nel pentolone. Che cosa cucina oggi di buono? Silvano si asciugò le mani nei grembiule e sistemò il fazzolettone bianco che portava intorno al collo. Niente di speciale, un brodo per i miei clienti affezionati. Come mi piacerebbe cucinare bene come lei, ma è inutile. Nessuno è bravo come il nostro Silvano. Questo brodo, per esempio, sento il profumo dell'aglio, del prezzemolo e di altre erbe dell'orto, ma ci deve essere dell'altro. Oh, ma che cos'è quello? La signora aveva intravisto delle forme rotonde che affioravano bollendo e poi si rituffavano nelle profondità del brodo profumato. Silvano intravide la possibilità di darle una lezione di cui si sarebbe ricordata per un bel pezzo. È un segreto, disse abbassando la voce. Un segreto? Su via, di cosa si tratta? A me può dirlo, siamo amici. Stia pur certo che non lo rivelerò a nessuno. Ebbene, proprio perché siamo amici. Si guardò intorno come siete messe orecchie indiscrete. Sono tartarughe. Tartarughe? Ma è impossibile! E dove le trovate? La signora era sbalordita. Abbassi la voce! Tartarughe, le dico! Non si immagina che buon sapore dà al brodo una tartaruga o due, con il guscio e tutto. Per fare la panissa, poi, è l'ideale. Ma non si trovano dappertutto. Io, per esempio, ho un fornitore di fiducia al mercato di Chivasso che me ne tiene da parte tre o quattro tutti giovedì. La panissa, tartarughe, al mercato di Chivasso! La signora era trionfante. Credeva di avere strappato a Silvano la più segreta delle sue ricette. La sua panissa era conosciuta in tutto il circondario e molti clienti facevano chilometri e chilometri per assaggiarla. Ora anche lei avrebbe potuto conquistare la fama di cuoca sopraffina. Con una scusa si congedò e corse a casa. Non vedeva l'ora che arrivasse il giovedì per correre al mercato di Chivasso ad acquistare le tartarughe per il brodo. La mattina del giovedì si alzò prestissimo e arrivò a Chivasso mentre i venditori ambulanti stavano ancora scaricando le merci dai loro carretti. Incominciò a passare dall'uno all'altro domandando tartarughe per il brodo. Ma non ricevette che di nieghi. Nessuno aveva tartarughe né le aveva mai avute. Dopo una mattinata intera era stanchissima ma ancora non abbandonava le sue ricerche. Infine si accorse che i commercianti l'accoglievano con sorrisi ironici e qualcuno, credendo di non essere visto, si batteva l'indice sulla tempia ad indicare che quella donna doveva avere qualche rotella fuori posto. Allora capì di essere stata presa in giro, ritornò a casa scornata e non si fece più vedere alla cucina del ristorante. Fu così che Silvano, finalmente libero, poté continuare a fare il cuoco senza seccature. Il suo brodo, anche senza tartarughe, rimase sempre il migliore. Ed ancora oggi, più anziani tra i suoi clienti, quando si trovano all'osteria la domenica pomeriggio, si ripetono l'un l'altro. Ah, quel brodo che faceva il Silvano! In tutto il mondo non ce n'era ad uguali. Ed anche lo scecco del cutare, un poveraccio, perché non ha mai assaggiato la panissa del Silvano!